Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Xstarter e oggi vi mostrerò come guadagnare molti RP velocemente e molti soldi velocemente Contemporaneamente, andiamo su Online, Attività, Ospite Attività, Create da Rockstar, Missioni E mettiamo Carico Ambito Carico Ambito ci darà molti soldi e molti RP velocemente, anche in modalità normale, se si fa in modalità difficile ci darà qualche RP in più Per fare questa missione abbiamo bisogno del cecchino, che si sblocca a livello 20 e a livello 90 mi pare il fucile avanzato Mettiamo mezzogiorno, sereno e invitiamo i nostri amici e facciamo partire la missione Fatta partire la missione uccidiamo tutti Fatta partire la missione uccidiamo tutti Musica Ok, una volta fatto scendere il Cargob, uccidiamo il pilota. Quando esce fuori, attenzione perché è immortale tra virgolette quando è dentro il Cargob, rubiamo il Cargob e rubiamo il container e lo portiamo alla base di Madrazo. Grazie a tutti. Ok, portate il container. Una volta finita la missione ci darà 12.000 dollari e ci darà intorno ai 1.900 RP. Ok, arrivata questa schermata, se si vuole rifare questa missione velocemente, basta premere Xbox 360 e quadrato su PS3. La missione si riavvierà molto più velocemente.